Alessandra dove siamo? All'isola di Préjoux, appena fuori Marzillia, non importa, siamo arrivati col traghetto e poi si è fatto un bel pezzo a piedi per arrivare a questa bellissima spiaggia, poi ci sono le Calanques, queste isolette accanto alla Chateau Adip, dove sempre Monte Cristo e il l'acqua è stata richiusa, è roba di pensione, però è verità. L'acqua era bella, fresca, te hai fatto il bagno come a me? No, perché la ghiaccia stettita. Non l'hai nemmeno sentita? Sì, ma guarda, se ti piace, vuoi che ghiaccia. Bene, allora faccio una panoramica per far vedere questa. È tutto bruno, un po' tipo Capraia. Sì, infatti, non c'è nulla. A te è piaciuta? Sì, ci sta un po' io, posso piacere. Noi siamo venuti qui con i nostri amici. Sì, si è seguito i nostri amici che è in generale. Loro, hanno fatto il bagno. Esatto. Ho superato un minuto, ho fatto male. E ora? E ora basta. Noi siamo venuti qui con i nostri amici.